direzione madrid qui a madrid, quello è il nostro appartamento questo è il secondo piano palazzo reale con la cattedrale oggi, questa mattina, ci troviamo a Plaza Maior siamo a Puerto del Sol questa è la Gran Via di Madrid qui a più grande il municipio di madrid questa è la plaza de canovas con il nettuno, la fontana nettuno al cielo la cattedrale di madrid e questo è il palazzo reale e questa è la fila che dobbiamo fare per entrare perché oggi è gratuita dalle 6 alle 20 questo è il fiume manzarane il fiume di madrid conosciuto anche nella posia del 5 maggio ecco il santiago bernabèo il tempio di deboti grazie a tutti grazie a tutti